dedicato, anche complesso, per cui abbiamo chiamato il senatore Franco Mirabelli, che ci illustra un po', avendo partecipato sia all'approvazione, sia tutti i suoi passaggi parlamentari, questa riferimento, e poi ci facciamo un'idea più compiuta della trasformazione che questo porterà nelle nostre istituzioni. E quindi poi avremo, chissà chi non è d'accordo con questo passaggio nel partito, ci attiveremo per promuovere tra i cittadini un sostegno a questa riferimento. Io non mi dirò che perché è una materia complessa, non saprei se appoggio nel modo giusto, per cui do subito la parola al Franco.